Qualche giorno fa è stato smarrito un cane da caccia spinone marrone chiaro in località Palazzina di Albareto. Chiunque avesse notizie sulla sorte di questo animale può chiamare il 333 44 35 701. E adesso andiamo a Berceto dove il canale 2 della RAI e precisamente all'interno della rubrica TGR Montagne ha dedicato al paese della Valtaro un corposo servizio. Apparizione televisiva per il comune di Berceto sul secondo canale della RAI all'interno della rubrica TGR Montagne. A dare lo spunto ai giornalisti per un servizio il gemellaggio di Berceto con gli indiani d'America La Cota siglato nel 1988 e lo scambio di delegazioni e di doni che ne seguirono. Oltre a questo che ha fatto tanto parlare a livello mediatico Berceto ha sfilato sulla passerella dello schermo RAI anche per un'altra sua caratteristica certo non secondaria. L'invidiabile posizione che occupa lungo il tragitto dell'europea via francigena abbinata alla storia, alla cultura, alla religione ma anche al buon gusto. Il servizio, ben fatto, ha utilizzato anche immagini storiche riferite al momento della sigla del gemellaggio dove si sono rivisti volti che ormai non ci sono più. Il giornalista ha poi colto anche un altro aspetto del paese che ha rilevanza storico-mediatica ovvero la mitica gara Parma-Poggio che vide gareggiare lo stesso Enzo Ferrari. Un percorso che può essere considerato la trasposizione moderna dell'antica via francigena. Inoltre la troupe televisiva ha fatto una visita nel laboratorio del famoso liutaio Claudio Marchetti. Il sindaco Luigi Lucchi ha colto questa ghiotta occasione per rilanciare l'idea delle due stazioni di servizio moderne sull'autocisa per incrementare l'occupazione in loco. Tutti gli anni nel giorno di Santa Lucia la Casa del Pellegrino di Boschetto di Albaretto si festeggia con regali e con un pranzo al quale partecipano ospiti e familiari questa ricorrenza. La Casa del Pellegrino di Boschetto di Albaretto è stata inaugurata nel 2000. Da allora tutte le feste del Santa Lucia è stata festeggiata in maniera degna con un bel pranzo, con dei regalini, con dei momenti di intrattenimento molto semplici ma molto sentiti. Dalle famiglie e dagli ospiti di questa struttura protetta che sta facendo della qualità e del servizio alle persone un credo assoluto. In questa struttura ci lavorano 10 persone a rotazione, quindi 10 posti di lavoro in una frazione come Boschetto di Albaretto importantissime e fondamentali. 10 persone motivate che vogliono bene i loro assistiti, che hanno come missione, ben oltre a quello che vengono pagate, l'assistenza, l'aiuto, la comprensione delle necessità delle persone anziane che sono sempre più anziane, sempre più bisognose. La situazione è cambiata rispetto a 10 anni fa quando fu inaugurata questa struttura. Le persone erano più autosufficienti, la popolazione anziana era meno anziana, era più autosufficiente, era più in grado di potersi gestire. Adesso queste persone sono invecchiate, sono cresciute, sono diventate, ahimè, anche più disabili rispetto a quando sono entrate in questa casa protetta, in questa casa aperta, che è stata ideata, è stata un'intuizione di Lorenzo Corbelletta che ci ha messo anime e corpo insieme ad altre strutture che sono nate intorno a questa casa, a questo punto di riferimento sociale per tutta l'altra Valgotra. Domenica prossima 18 dicembre, mercatini di Natale nella piazzetta di Compiano. I ben pensanti organizzano questa giornata con la disponibilità anche dell'amministrazione comunale, panettoni milanesi e liguri della panetteria Lusardi, focacce natalizie della pasticceria Tosi di salso maggiore terme, frutta fresca e secca di Montelli di Borgotaro, funghi secchi e sottoglio, marmellate di frutti di bosco e di altri frutti, poi formaggi sardi, liquori, dolciumi, caramelle, confetti e d'altro ancora dall'antica confetteria ricotti di salso maggiore terme in più, bancarelle appositamente predisposte che venderanno vari prodotti e souvenir di Compiano, tessuti e bigiotteria. Ci saranno altre sorprese, ovviamente musica dal vivo con Massimo alla Fisarmonica e Masala con l'armonica a bocca. Un'importante manifestazione, parliamo di basket, è stata programmata per domenica dalle 10 alle 12 presso il Palasport Bruno Raschi di Borgotaro ad organizzarla il centro minibasket valtarese che riunirà tutti e tre i centri attivi ovvero Borgotaro, Bedogna e Albareto per festeggiare le imminenti feste natalizie. L'appuntamento vedrà la partecipazione dei 150 tesserati per il settore minibasket. Il responsabile del centro, Walter Gonzato, insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, sta organizzando al meglio l'appuntamento. Al termine dei giochi si festeggerà tutti insieme anche con i genitori e con gli sportivi della Valtaro che, si spera, correranno davvero numerosi. Pertanto l'invito è rivolto a tutta la popolazione che potrà assistere ad una bella mattinata di sport che culminerà con lo scambio degli auguri da parte del centro minibasket valtarese. Il meteo. Domani, sabato 17 dicembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e buone condizioni di visibilità. Le temperature minime, inflessione, valori tra meno 1 e 4 gradi. Le massime, inflessione, valori tra 7 e 13 gradi. Infine i venti saranno deboli e moderati. I programmi di RTA per questa sera cominciano alle 20.45 con la rubrica musicale 80 Nostalgia. Segue alle 21.30 VIP Show e al termine il TG. È tutto, grazie per l'ascolto, per averci seguito o a domani. Arrivederci, buona serata. Grazie. Grazie. Buona sera.